Musica Turing regione del ministro della giustizia Andrea Orlando, candidato alla segreteria del PD, prometto e poi mantengo, ha detto, a Udine. Malore fatale per un sessantenne sulle montagne sopra Moggio, soccorso alpino impegnato anche a tramonti di sotto. Falso allarme attentato a Ravenna, due uomini residenti a Pordenone entrano dai carabinieri dicendo di avere una bomba, da capire il perché. Giardiello Rebuzzi accoppiata italiana, l'UNESCO City Marathon, hanno vinto loro la quinta edizione della maratona da Cividale ad Aquileia. Buonasera dalla redazione di Udinews, questi i titoli del nostro Tg della domenica, ma ritorneremo in questa nostra edizione domenicale del Tg anche sulla bella vittoria della GSA contro Mantua, una vittoria frutto di una rimonta incredibile che significa salvezza. Questo nella pagina sportiva, ma adesso iniziamo con la politica, con la visita in regione del ministro della giustizia Orlando in cerca di consensi in vista delle primarie per la segreteria del Partito Democratico. In questo momento, ha detto Orlando a Udine, sono l'unico in grado di mantenere unito il PD, obiettivo non certo facile. Vediamo allora il primo servizio di Davide Zanirato. Se il PD non cambia, può essere Renziano quanto vuole, ma va a sbattere contro un muro. Con questo slogan il ministro della giustizia Andrea Orlando è stato protagonista di due incontri in regione, a Pordenone e a Udine, accolto da diversi parlamentari, assessori e consiglieri regionali, dal sindaco di Udine a Onsel. Sono abituato a promettere mirabolanti, prospettive, soluzioni magiche, scorciatoie assolutamente convenienti ed eccezionali per tutti. E poi ci ha messo di fronte al fatto compiuto della realtà che non consente scorciatore, che non offre soluzioni mirabolanti, ma offre soltanto la fatica del lavoro. Ma perché un iscritto del PD dovrebbe preferire lui all'ex premier Renzi appunto e al governatore della Puglia Emiliano, nella corsa alla segreteria del partito? Così ha risposto ai nostri microfoni. Perché credo di essere la candidatura in grado di tenere insieme il PD in questo momento, un momento non semplice, e perché credo che la mia proposta corrisponda all'idea originaria del PD, quella che abbiamo voluto dieci anni fa, che deve far convivere idee, culture e politiche diverse e soprattutto rimettere in connessione il partito con la società italiana. Una connessione che si è evidentemente interrotta in modo drammatico, come ha dimostrato il referendum. L'operazione rimonta è possibile? L'operazione rimonta e si sta realizzando, quindi è possibile. Per quanto riguarda invece il suo ministero? Beh, abbiamo adesso da attuare, dobbiamo approvare il DDL penale e poi ci sarà tutta l'attuazione della legge, quindi molto lavoro, molto lavoro da fare. Ed è arrivata anche una nota della Presidente del Friuli Venezia Giulia e Vice-Segretaria del Partito Democratico, Deborah Serracchiani. Sono contenta che ci sia questo congresso, mi fa piacere che Orlando venga nella mia regione a discutere nei circoli, come facciamo noi a sostegno della mozione Renzi. Ha detto Serracchiani, libertà di dibattito e critica, apertura, pluralità sono la ricchezza tangibile del PD. Sono convinta, ha aggiunto, che la campagna congressuale farà bene al partito. E siamo alla cronaca adesso. Muore per un malore al rientro da una gita sopra Moggio Udinese, vittima un uomo di 60 anni, originario di Enemonzo, ma residente a Busto Arsizio. Si è sentito male nell'ultimo tratto di salita che conduce alla cosiddetta Forca di Moggio, a 650 metri di altitudine. Stava facendo un'escursione assieme ad un gruppo. Sul posto sono intervenuti i sanitari delle 118, ma i tentativi di rianimazione sono risultati inutili. Sul posto anche gli uomini del soccorso alpino, intervenuti nel pomeriggio anche per soccorrere un altro escursionista di 73 anni, di Tamai di Brugnera, colto da malore lungo un sentiero nel comune di Tramonti di Sotto. L'uomo è stato portato in ospedale a Pordenone con l'elicottero del 118. Continuiamo con la cronaca. Ancora tutti da chiarire i contorni dell'episodio che ha visto protagonisti ieri due uomini, padre e figlio, residenti a Pordenone, che sono entrati nella caserma dei carabinieri di Ravenna dicendo di avere delle bombe. Sentiamo Davide Zanirato. Allarme attentato bomba a Ravenna ieri, quando una Fiat 600 verde militare ha sfondato nel pomeriggio il cancello del comando provinciale dei carabinieri, entrando nell'area della caserma proprio mentre usciva una gazzella dei militari. A compiere il folle gesto, padre e figlio residenti a Pordenone. I due, da quanto ricostruito, urlavano di avere una bomba a bordo e quindi hanno gettato sull'asfalto, accanto alla macchina piena di oggetti, due valigie. Grande sangue freddo dei carabinieri che prontamente hanno fermato e tratto in arresto gli uomini e dato l'allarme. Successivamente sono intervenuti gli artificieri di Bologna che hanno controllato la macchina, ma all'interno c'erano solo vestiti, carte, ombrelli, come se i due tornassero da una breve vacanza. Sono stati subito fermati e arrestati. Appena identificati, l'allerta si è stesa ovviamente anche nella città della destra Tagliamento, in via Fontanazze, dove Natale e Antonio Lucido, 46 e 75 anni rispettivamente, di origini palermitane, sono residenti. Si è scoperto che non avevano esplosivo, né in auto né nelle borse. Davvero inspiegabile il gesto, anche alla luce dell'innalzamento del livello d'allerta antiterrorismo in tutto il paese. I militari, infatti, avrebbero potuto cominciare a sparare contro di loro. I due giovani sono stati aggrediti nella serata di ieri con spray al peperoncino e poi sono stati derubati delle collanine che avevano al collo. E' accaduto intorno alla mezzanotte in fiera a Udine, dove era in corso un evento musicale con migliaia di partecipanti. I due ragazzi sono stati spintonati e poi storditi con lo spray per l'autodifesa. Sono stati soccorsi dagli agenti della Polizia Amministrativa della Questura di Udine, che avevano appena terminato un controllo verificando la regolarità di tutti gli aspetti amministrativi della serata e anche dagli organizzatori che li hanno accompagnati all'esterno, dove c'era un'ambulanza già presente per ogni evenienza. Nel corso della serata si sono verificati diversi furti, tutti con strappi delle catenine. Le indagini sono in corso da parte della Polizia. E cambiamo argomento adesso. I migliaia hanno preso d'assalto oggi i corsi d'acqua e i laghi della nostra regione. E' scattata infatti la stagione della pesca sportiva, che coinvolge un esercito di 18.000 appassionati. Vediamo. Aperto regolarmente oggi alle 7, la stagione ufficiale della pesca sportiva in Friuli Venezia Giulia, gestita e controllata dall'Ente regionale per la tutela della pesca, l'ETP. Nonostante l'inverno appena concluso sia stato particolarmente siccitoso, non si registrano criticità sui corsi della regione, anche se il ridotto livello delle acque ha creato qualche preoccupazione. Le operazioni di ripopolamento si sono quasi ultimate. Nei 3.000 chilometri di canali artificiali, sui quali l'Ente tutela pesca opera, sono in fase di rilascio le trote adulte. Nei corsi d'acqua naturali, invece, tali interventi sono stati quasi completati in vista dell'appuntamento odierno, con quantitativi ragguardevoli. Circa 20.000 chili di trota adulta, dei quali 10.000 di marmorata, sono stati infatti liberati sinora, riservando quest'ultima ai corsi d'acqua più integri dal punto di vista ambientale. Per il programma di ripopolamento saranno immessi 1.200.000 avanotti di marmorata, 300.000 uova embrionate e 120.000 pezzi di novellame. Il livello delle acque è piuttosto basso, ha sottolineato il presidente dell'ETP, Flaviano Fantin, ma non ha comunque bloccato le operazioni. L'ENTE, nonostante le difficoltà, prosegue con la massima efficienza al lavoro per adempiere i suoi compiti istituzionali. E in sede di approvazione del bilancio per il 2017, l'ENTE ha deciso stanziamenti per il rafforzamento della vigilanza volontaria ed è allo studio anche un nuovo progetto per incrementare la fauna ittica nei laghi. I numeri delle giornate FAI di primavera che anche oggi hanno richiamato l'attenzione di migliaia di visitatori, 8.970 in provincia di Udine, 17.520 in tutto il Friuli Venezia Giulia con 11 località coinvolte. I beni aperti al pubblico, in molti casi normalmente chiusi o difficilmente accessibili, sono stati visitati grazie all'impegno e alla disponibilità di 120 volontari e oltre 560 apprendisti ciceroni. Giardiello Rebuzzi, accoppiata italiana all'UNESCO City Marathon. L'Avellinese e l'Emiliana vincono la quinta edizione della maratona da Cividale del Friuli ad Aquileia. titoli regionali assoluti a Matteo Redolfi e Anna Parrella. Circa 1.500 gli atleti in gara tra podisti e pattinatori. Vediamo. Saverio Giardiello della Montemiletto Team Runner e Manuela Rebuzzi dell'Atletica Reggio hanno vestito del tricolore l'edizione 2017 UNESCO City Marathon che ha toccato i 1.500 atleti in gara tra podisti e pattinatori. Non succedeva dal 2013 che due italiani finissero sul gradino più alto del podio. Era l'edizione inaugurale dell'UNESCO City Marathon e sul traguardo, quell'anno, collocato a Cividale, trionfarono Ruggero Pertile ed Elisa Stefani. Giardiello, 36enne avellinese, maresciallo dell'esercito, al primo successo in una maratona internazionale nella sua carriera, è giunto al traguardo in 2 ore 35 minuti e 17 secondi, precedendo lo sloveno Martin Ocepek e il sudafricano Jaco Smith. Giardiello ha anche vinto il campionato italiano esercito. Manuela Rebuzzi, 33enne, mantovana d'adozione, emiliana d'origine, ha limato qualche manciata di secondo alla personale, chiudendo in 3 ore 13 minuti e 54 secondi. Con lei, sul podio, Federica Bongiovanni della Marathon Cremona e Milena Grion della Tre Casali San Cesario. Campionessa friulana assoluta, la 56enne udinese Anna Parrella dell'Atletica Buia. L'UNESCO City Marathon è stato un ottimo allenamento per tutti e una giornata di festa lungo le strade della storia tra Cividale, Palmanova e Aquileia. Prossimo appuntamento al 2018. E sono arrivati da tutta Italia, ma non solo i partecipanti a questa edizione della Maratona. Chi di corsa, chi sui pedali, chi con il rollerblade hanno percorso tutti i 42 chilometri del percorso. Siamo andati a sentire le loro voci. Da dove arrivate? Allora, da Forlì, guarda. Forlì. Come mai all'UNESCO City Marathon? Ma perché ogni tanto, almeno a me e poi, penso anche a loro, piace provare anche qualche maratona un po' diversa perché comunque, almeno sia io che lui, come numero siamo già abbastanza elevato quindi ogni tanto provare qualcosa di diverso è bello. Qual è il vostro... No, c'è anche uno sfondo di militare a Cividale del primo, 37 anni fa per cui è bello anche rivedere un po' com'è il posto, com'è cambiato. Obiettivo al traguardo finale? Quattro ore e venti, sono molto tranquilla. La faccio in passeggiata, decisamente. Da dove arrivate? Ma io da Udine. Ieri abbiamo fatto la prova di nuoto, oggi bici fino a Palmanova e poi da Palmanova fino ad Aquileia di corsa. Siamo del triathlon. Qual è la bellezza di questo percorso per voi? Che è in completa sicurezza, completamente chiuso dal traffico, quindi ci sentiamo sicuri al mille per mille. Da dove arrivi? Da Legnago, Verona. Come mai con i pattini all'UNESCO City Marathon? Beh, perché pattino da tanti anni, mi piace tantissimo e anche le maratone mi piacciono come gara. È la prima volta qui a Cividale? Sì, qui sì, è la prima volta. L'obiettivo per il traguardo? Beh, fare un buon tempo da imbattere il mio record personale. Più comodo sui pattini che non di corsa? Secondo me sì. E rimaniamo a Cividale dove la GSA ha strappato una vittoria importantissima e incredibile contro Mantova. Sentiamo il racconto di Stefano Giovampietro. Vittoria fondamentale per la salvezza per la GSA Udine contro la dinamica generale Mantova. Festa che è ancora imperversa alle mie spalle. Il risultato finale 80-76 per la squadra di coach Lino Lardo. Una partita che Rain Wademan, protagonista assoluto, il playmaker ha definito rollercoaster, montagne russe. Primo quarto in cui Mantova ha strappazzato Udine, nel secondo quarto la prima rimonta. Terzo quarto ancora con Mantova che ha preso in largo. Ma un quarto finale da antologia, mitologico, epico. Si possono sprecare gli aggettivi perché la GSA ha rimontato 17 punti di distacco. Ha chiuso avanti di 4, quindi più 21. Nell'ultimo parziale che è finito 29 a 8. Decisivi i 23 dello stesso Wademan che ha segnato una tripla incredibile da 10 metri. Decisiva per la vittoria ma anche ovviamente i 25 di Okoye. I due stranieri che hanno trascinato la GSA a questo isperato successo. Esplosa poi la gioia del Palalongo Bardo. Davvero grandissima festa nelle voci dei protagonisti che abbiamo sentito e che risentiremo nel corso della nostra programmazione. Però una grande serata di basket, di festa proprio qui. Con la vittoria, lo ripetiamo, 80-76 della GSA. Sulla dinamica generale Mantova un pomeriggio di assoluta storia scritta proprio dalla squadra bianconera di Cocci di Nolardo. E passiamo al calcio. Al calcio femminile si è chiusa oggi al campo sportivo del Bearsi a Udine. La due giorni dedicata alla Danone Cup che ha visto protagoniste le giovani calciatrici dell'udinese calcio femminile. Il servizio è un progetto di crescita rivolto appunto allo sviluppo del calcio femminile. Prevede questa fase interregionale. Dopodiché la squadra che avrà avuto più punti andrà a rappresentare poi la propria società a livello nazionale. È un torneo fortemente voluto dal settore giovanile scolastico nazionale proprio per dare ulteriore attenzione al movimento del calcio femminile. A proposito di questo movimento, qual è il suo stato di salute in Regione? Ma qua è sempre stata una Regione abbastanza fertile, anche se negli ultimi anni abbiamo avuto qualche intoppo. Ci sono società che gravitano sicuramente nell'orbita nazionale e con buoni risultati. In ogni caso si cerca sempre, nonostante i numeri siano ancora un po' bassi, di tenere alto il nome del Friuli Venezia Giulia perché è sempre stata una Regione che ha dato anche tante promesse alle nazionali. Per cui sicuramente continuare su questo solco. Barbara Lesel è mister dell'Udinese Calcio Femminile. La squadra delle giovanissime oggi in campo per la Donone Cup. Come si stanno comportando? Per noi è la prima esperienza in questo torneo, quindi direi che stiamo facendo comunque bene. Siamo tra virgolette le meno esperte, però stiamo lottando e stiamo combattendo per far bene soprattutto. Un gruppo che può guardare avanti anche in prospettiva della formazione più grande. Ma certo, sicuramente. Noi stiamo cercando appunto di costruire e di insegnare il più possibile proprio per quello, in vista del futuro. Siamo in chiusura, uno sguardo veloce alle previsioni del tempo per domani. Avremo cielo sereno su tutta la Regione. Al mattino soffierà bora moderata sulla costa, più sostenuta ad est. In giornata brezza, di notte gelate nelle valli alpine e piuttosto freddo in pianura. Temperature minime e anche massime in netta diminuzione rispetto a questi ultimi giorni. Ed è tutto per questa edizione del nostro Tg. Grazie per la vostra attenzione e l'invito ovviamente è quello di rimanere in nostra compagnia. Buona serata a tutti. Grazie a tutti.